che era l'imbrunire questo è Ginebra e vabbè sono delle belle cose sono delle belle cose perché no caminetto acceso mangiato bene Brun? il cacciucchino com'era? buonissimo ho fatto le divisioni tre te che anni fatti là a me domani c'è di mangiare pronto domani c'è bello vado tutto il giorno e tu finisci no no io le due si che le mangio non ci penso nemmeno non ci penso nemmeno non ci penso nemmeno che nemmeno Il gioco è un'altra cosa, ma la vieni con il gioco! Ti vieni con il gioco, ti vieni con il gioco! Ti vieni con il gioco! Poi vieni con il gioco, ti vieni con il gioco, ti vieni con il gioco! Chi va a fare ciò che la vieni con il gioco? E' un gioco! Ma non è un gioco! mi ha lavorato mi ha lavorato non c'è niente che si lavora con santa ma che si lavora con tutto il mondo abbiamo un contiglio per fare la giornata è quattro di prima non rinnovate e Sergio dei Gattaccio e Sergio come diceva Giovanni quando tornava di città e era un amore e le dicevano in continuazione e si è e si è